Sempre di Battisti ascoltiamo una canzone che si intitola Una giornata uggiosa Uggioso significa tascrivi E' una canzone che Battisti ha scritto all'inizio degli anni 80 E' una canzone che... Che è difficile da capire per gli stranieri Perché racconta tanti fatti della storia contemporanea italiana Che voi non conoscete Noi abbiamo... Poi abbiamo un po' Spagnate Bene Ora vediamo E lo ascoltiamo Eh? Toscrivi un po' Sì Sì Cimitero... 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 Eh? Cimitero... 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 Spusci te stessi... Noi facciamo una roba... E tu davanti... Pa... YouTube Cimitero... 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 Ehm... Ma... Cimitero... 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 Sogno un cimitero di campagna io là All'ombra di un ciliegio e un fiore senza età Per riposare un poco i tuoi trecento anni Giusto per capirti più a tua cari affanni Sogno il mio risveglio di trovarmi accanto Catta con le stesse mutandine rosa Non più bandiera di un bellissimo tormento Ma solo l'ornamento di una bella sposa Ma che colore ha? Una giornata odiosa Ma che sapore ha? Una vita non spesa Ma che colore ha? Una giornata odiosa Ma che sapore ha? Una vita non spesa Sogno di abbracciare un amico vero Che non voglia vendicarsi su di me Il suo momento amaro E gente giusta Che rifiuti di essere fredda Di facili entusiasmi E ideologi alla moda Ma che colore ha? Ma che colore ha? Una giornata odiosa Ma che sapore ha? Una vita non spesa Ma che colore ha? Una giornata odiosa Ma che sapore ha? Una giornata odiosa Una giornata odiosa Una giornata odiosa Ma che colore ha? Ma che colore ha? Son nel mio paese nellina e tintuoso Ma che colore ha? Un fiume con fspace Di vi todora dalla casa Ma che colore ha? Di non sognare La nuovissima Zelanda Ma che colore ha? Ma che colore ha? Una giornata occiosa Ma che sapore ha? Una vita non spesa Ma che colore ha? Una giornata occiosa Ma che sapore ha? Una vita non spesa Ma che si sa l'esplosione Ma che si sa l'esplosione Allora, ok! Allora, ok! Il pensato che il pesce va a partire Si, perché non è piaciuto, ma non è potuto non perdono la possibilità Non si mi spia Allora, ok! Cosa! E'o ne «muchto, bani?» «Muchto, no, no» «o» «o». «o» 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 «y a «y a sibe» «y a sibe» «tam», «pada tenue vishni» «ombre tatien», «acirè», «chelezè», «i –o» «chelezневa» «chelezne» «chelezne» «vishni» «ee, vishni» «ve» 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 Si, è molto vecchio. Perché? Чтобы отдохnare meno, 2 ore... In mezzo a vedere 200? 200-300 anni? Prima? Чтобы... Non, 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 più. Non, 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 più. Placare è come calmare, tranquillizzare. E' un'aspirazione. Ma è un'aspirazione. E' un'aspirazione, ma è un'aspirazione. La fanno è, una scena, è una scena. Ma, è un'aspirazione. E' in questo caso, c'è un'aspirazione, trascosione. E' un'aspirazione. Bene, bene, tutto. Grazie a tutti. Giulia? Non, non, ma. Poi prima cosa che mi ricordo... Che? 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 Qui sm Che? 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 Ma che colore ha una giornata uggiosa? Ma che cos'è? Opiniene vero al worth, non serve. Che ne quiser... ...autoste per... ...sa? No, amore e laоровità, amarro e il loro corso. prize per il suo... ...el loro corso. Corso il nostro corso. che accadevano? che accadevano essere dimenticami accadevano essere dimenticami dimenticami in italiano in italiano ma anche ma anche ma anche l'initiative e entusiasmo e non ma ma bene bene poi mi mi mia 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 ma 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 ogni veramente cosa è questo è pieno io E a ricchi? Ci ricchi? Ci ricchi com'i? C'è? Na com'e rastazione? C'è certo. C'è certo. C'è? C'è? C'è Bnei Mècetà? C'è? 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 Ubbiegare. C'è? C'è? Ubbiegare. Proto? C'è? 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 Brianca è una zona del centro di Milano E' da vidi Verrnosa E' da vidi Brianca è una persona che è un'ecologica Ma ora c'è questo B Velenu è il giallo Allora, veleno, è tagliato e azzurdo a prilagatene, veleno, non so, è già prilagatene, è già l'agore, avvelenare. Allora, lui dice che è una giornata uggiosa, quindi non è contento e sogna delle cose, cioè, sono delle cose che non gli piacciono e lui vorrebbe che fossero diverse. Suo passato, no? Passato, presente e futuro. Bene, allora, Olga, qual è la prima cosa che sogna? Sogna un cimitero di campagna. Beh, non perché lui sia un necrofilo, perché il cimitero è il posto, se poi è di campagna, è il posto più tranquillo del mondo. Sì, è stanco. Lui è stanco, non tanto fisicamente, ma moralmente, mentalmente, è stanco e vuole riposare. Quanto vuole riposare? 200-300 anni. Beh, significa che è molto stanco. È stanco, sì. Beh, e poi vuole placare i suoi problemi, le sue ansie, le sue preoccupazioni, ma è stanco. Vediamo quali sono i suoi problemi. Primo problema. Giulia. Siete i franzesi? Cerce la fame. Beh, allora, qual è il suo primo problema? Soprima? Soprima. Va bene, sai com'è? Il primo anno di matrimonio, amore mio, secondo anno di matrimonio, amore mio, terzo matrimonio, amore mio, ma dopo vent'anni non è proprio amore mio, eh? Beh, lui ha messo sulla pancia, va in giro con le ciabatte per casa così, con la barba lunga, la moglie anche, ha le tette smunte, e gli dice, Ah, porta la spazzatura fuori, vai a fare una pipì al cane, e metti le ciabatte, va a sporcare il bambino, quindi lui vorrebbe che la moglie Ah, era giovane? Purtroppo non si può tornare indietro nel tempo, però lui sogna che la moglie com'era quando erano giovani, tutti e due, e com'era la moglie quando erano giovani? Eh, si metteva le mutandine rosa, eh? Facevano l'amore tutte le sere Molto bella, molto... Eh, adesso è la bandiera, flac, in mezzo a vedere un simbolom, eh? Di un tormento Vorrebbe che i loro rapporti tornassero passionali, strassni, eh? Pieni d'amore, di sesso Beh, secondo problema, Natalia No, vabbè, c'è un problema, eh? Non mi ha la predume, fa testo Primo problema è la moglie Secondo problema Gli amici Allora, questa è una canzone che è stata... è all'inizio degli anni Ottanta Prima, gli anni prima, gli anni settanta, erano anni in cui, in Italia, soprattutto i giovani comunisti in Italia volevano fare la rivoluzione Quindi a scuola, all'università, si parlava sempre di politica E questo significa che, se io ero comunista, i miei amici li sceglievo tra i comunisti Se ero fascista, i miei amici li sceglievo tra i fascisti La politica era un criterio per dividere le persone Poi, gli anni settanta sono finiti La rivoluzione non l'hanno fatta, né i fascisti, né i comunisti E gli anni Ottanta sono anni in cui gli ideali politici, piano piano, sono scomparsi E lui dice proprio questo, io voglio un amico vero Non perché è amico mio, perché se io sono fascista, quello è fascista Non un amico per ideologia politica Voglio un amico perché è una persona che mi interessa Che vedo in lui una brava persona E una polemica Una polemica che lui, negli anni Ottanta, fa agli anni settanta Alla politicizzazione degli anni settanta Mi mi appogliali, da? Bene Mi appogliali Vabbè, terzo problema Paese? Eh, allora l'Italia Spesso la chiamano la Repubblica delle Banane Perché? È un po' come la Russia, non è un paese serio Gli italiani votano i politici e poi i politici cosa fanno? Si siedono sulla poltrona Dalla poltrona non si alzano, non si staccano più Bene E poi fanno così Carruzza? Eh, sì, fanno i loro interessi Mettono un teatrino della politica dove Litigano Ma poi sono tutti d'accordo a riempirsi le tasche E la mafia e la politica molto spesso sono così Noi vogliamo un paese serio Come la Francia, come la Germania, come la Gran Bretagna Dove tu voti i politici e quelli fanno il loro lavoro Uno E poi c'è il problema Ecologico Ecologico Nel 1957 comincia il boom economico C'è l'industrializzazione in Italia E tanti Tanta natura si è persa Questa canzone è stata scritta Vi ho detto negli anni Ottanta Nel 1976 in Brianza La Brianza non è una regione È una zona che si trova in Lombardia A nord di Milano È tra le province di Milano Monza Varese E Como mi sembra Insomma È un territorio dentro quattro province È una zona tra le più industrializzate d'Italia Bene Nel 1976 in un'azienda che si chiamava Icmesa C'è stato un incidente È uscito un gas che si chiama Diossina È un gas tossico E è andato questo gas In un paese Nel paese vicino che si chiamava Seveso E molte persone Sono state avvelenate da questo gas No Vi ricordate l'ex presidente ucraino Viktor Yushchenko? Vi ricordate la faccia che aveva Yushchenko? Bene Nel 1976 a Seveso c'erano i bambini con la faccia di Yushchenko Bene E lui dice Basta Io non voglio un paese corrotto e inquinato Inquinato Voglio un paese Serio Dignitoso E pulito Per non sognare la Nuova Zelanda La Nuova Zelanda Io ho conosciuto solo una persona che è andata in Nuova Zelanda Perché è un posto dall'altra parte del mondo Però la Nuova Zelanda è un paese pulitissimo L'avete visto il film Il Signore degli Anelli? Sì, certo Eh, la stilinca, lì Eh, beh E' tutto girato in Nuova Zelanda Sembra la terra di un milione di anni fa Sì Sì Dice Basta Io non voglio sognare la Nuova Zelanda Voglio che l'Italia sia come la Nuova Zelanda Quella persona che io conosco Che è andata in Nuova Zelanda Mi ha detto Che quando tu esci dall'aereo Ti controllano le suole delle scarpe Se sono sporche Te le fanno togliere E le puliscono E tu e te lo dici Eh, dirgimesto Va bene Damascù Damascù Po tretradi Ah, non è E tu Значит Di me stanovi Na stranica 198 Sdieto Bocchini O Di Nada Zapolni Prilagini Sprengai Glagol Comprare Pavellite Nel cagliene Pasqua Questa Prima Forma Pavellite Nel cagliene Nada Slivate Glagol Mistimine Abbratite Rimani Nabraze Se ti piace Quel vestito Jesli Ti Bien Ravizza Eta Platie Compralo Cupi Evo E' facile E' facile Non è difficile Bene Dice Nel cagliene Nel cagliene Nel cagliene Nel cagliene Pavellite Pajalsta B Q Puprajin Q Na slidujie Strani Sto Nel cagliene Eta Kostvena Forma Glagol Nel cagliene Bene, grazie, ci vediamo mercoledì